Tappa a vasto per la senatrice di Forza Italia Alicia Ronzulli, quest'ultima è l'autrice della proposta di riforma del sistema degli affidi e della gestione dei minori allontanati che prevede tra le altre cose il diritto alla difesa per le famiglie, l'impugnabilità dei provvedimenti, il rafforzamento del sistema dei controlli, l'istituzione del registro degli affidamenti e dell'osservatorio sulle case famiglia. A riguardo si è espressa così. Il processo civile in questo momento come sappiamo è passato al Senato e noi ci siamo nel mio caso mi sono occupata della parte sul diritto di famiglia che è passata quindi abbiamo ridotto lo strapotere degli assistenti sociali, abbiamo dato in realtà proprio dei veri e propri confini, dei veri e propri paletti al diritto di famiglia, abbiamo eliminato finalmente i tribunali dei minori ma nasce il tribunale della famiglia, dei minorenni e delle persone quindi in modo molto più ampio. Adesso aspettiamo che vada la Camera e però ci auguriamo che non tocchino nulla di quello che abbiamo fatto al Senato. Gli obiettivi di Forza Italia in questa legislatura? Continuare a lavorare per il bene del Paese, cioè lo stesso obiettivo che ha avuto Forza Italia all'inizio quando ha deciso grazie all'intuizione del Presidente Berlusconi di dare subito e prima di altri il suo contributo a questo governo e quindi salvare il Paese nel baratro in cui stava cadendo grazie alla gestione, per colpa della gestione del governo Conte, quindi salvare il Paese dalla emergenza sanitaria e anche ovviamente adesso tornare a crescere e tornare alla nostra normalità ma anche aumentando anche la questione ovviamente economica. Chiara è decisa sugli obiettivi di Forza Italia nelle imminenti amministrative. In queste elezioni amministrative Forza Italia deve tornare ad essere determinante e centrale nella coalizione. Abbiamo bisogno di un mandato forte, di una Forza Italia forte nei numeri ma anche nelle idee.